...e nulla è più prodigioso dell'uomo, che varca il mare caduto sospinto da vento dai vestiti... ...dell'archivone si distingue per la sua complessità tematica, so che infatti... ...e dona, con le sue arti, la fiera... ...e il caldo e il cielo, e tu, che sei costito... ...e la vita nata in forma a terra di una pandiglia in puzzolette, e in questo... ...maia... ...dia, con nel Fast happens... ... ... ... I quali rappresentavano la nuova progettazione. Chi non invitaste? O poi? Giudice del Tribunale di Catania, quarta posizione civile che si ho di oggi. I ragazzi di oggi, la sua comistenza di mamma, hanno detto...